Giorni fa ho definito vergognoso lo stipendio di 11.500 euro netti che ho ricevuto nel mese di dicembre e lo sottolineo perché è un insulto nei confronti di tutti i lavoratori e di tutte le persone per bene che ogni giorno si alzano la mattina per andare a lavorare e che magari non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Sono concetti, puntualizza il capogruppo in regione Jacopo Berti, che come Movimento 5 Stelle portiamo avanti dagli albori della nostra esperienza politica e che anche gli altri condividono in campagna elettorale salvo poi una volta eletti dimenticarsi delle promesse fatte. Al di là di quello che ci arriva nel netto, per noi la busta paga è sempre standard, 5.000 euro lordi che tolte le tasse andiamo circa meno quasi a 3.000 euro al mese, più qualche centinaio di euro di spese che rendicontiamo sempre nel sito del blog di Beppe Grillo. A noi non cambia, anche se fossero 20.000 sarebbero solo dei soldi in più che andremo a restituire. Un politico, aggiungono i grillini, per noi non è altro che un lavoratore che in un periodo limitato della sua vita si mette a fare un'attività diversa. Deve continuare ad essere un lavoratore e ad essere parificato a questa odiosa legge Fornero che ingabbia tutti i cittadini, quindi nel bene o nel male, magari con un livello alto perché quello che facciamo è molto importante per la popolazione, ma dobbiamo essere parificati a tutti i cittadini, sia per quanto riguarda le pensioni e i privilegi che non hanno gli altri. Come Movimento 5 Stelle, Annuncia Verti, abbiamo presentato la nostra proposta di legge per abolire definitivamente tutti i vitalizi e tagliare questi stipendi vergognosi. Lo porteremo in aula e saremo proprio curiosi, anzi voglio proprio guardare negli occhi queste persone per capire come voteranno quel giorno e da che parte staranno.